Mowgli, il figlio della giungla, metà lupo, metà uomo, quale parte avrà scelto? Hey là, io sono Lonox e bentornati sul canale. Oggi, 7 dicembre, è uscito su Netflix Mowgli, il figlio della giungla. Questa recensione è no spoiler, quindi andate tranquilli. È un film che è stato girato già tre anni fa, è uscito soltanto adesso, ed è diretto da Andy Serkis. Tenete bene a mente questa cosa perché si nota. Cosa ci racconta questo film? Ovviamente la storia che già conosciamo, almeno nella prima metà. Il film parte e a guidarci è la voce del pitone K. O meglio, pitonessa perché è affidata a Kate Blanchett. Mmm, un prologo con la voce della Blanchett, mi ricorda qualcosina. La madre del nostro piccolo Mowgli viene uccisa da Sher Khan, che porta scompiglio nella giungla. Viene trovato dai lupi che lo accolgono nel loro branco. E a guidarlo nella sua crescita avrà al suo fianco Baloo e Baghera, che le insegneranno non solo a sopravvivere e a cacciare, ma anche le dure leggi della giungla. Fino a quando poi non torna Sher Khan, che porterà caos nella giungla insieme all'uomo che avanza sempre di più. Detta così, sembra che vi sto raccontando il live action della Disney. Ed è proprio a metà che il film cambia, perché Mowgli, che ha vissuto fino ad allora con un lupo nella giungla, dovrà confrontarsi con la sua parte umana. Quindi Mowgli scoprirà il lato buono dell'uomo, ma capirà anche che l'uomo è capace di grandi brutalità. E basta, non vi dico altro. Il film scorre abbastanza bene, non mi sono mai annoiato, ma alcune cosine sono un poco frettolose. Come ad esempio l'allontanamento di Mowgli dal branco o il finale, probabilmente causa montaggio. Chiaramente il confronto con il libro della giungla della Disney è inevitabile, almeno per due punti. Il primo punto, la CGI. Gli animali che vediamo nel film Disney sono praticamente perfetti. Qui invece fanno un po' fatica ad amalgamarsi con l'ambiente circostante, soprattutto nelle scene girate in reale. Ma quel furbetto di Andy Serkis, che è un profondo conoscitore della motion capture e della CGI, ha cercato di risolvere questo aspetto caratterizzando al massimo possibile i personaggi e dando loro dei grandissimi occhi che li rendono terribilmente espressivi. E questa cosa inizialmente vi spiazza, perché trovate un live action con tutte le premesse che è più cupo, più oscuro di quello Disney, e poi vi trovate gli animali fatti in quel modo. Ma scusate, la prima volta che ho visto Baloo e l'ho sentito parlare sono rimasto... Eh? Quel Baloo mi ha spiazzato totalmente. È diversissimo dal Baloo che abbiamo imparato a conoscere. Per diversi motivi, e qui ci colleghiamo al secondo punto di differenza con il film Disney. In questo film tutti gli animali, tutti, compreso Mowgli, hanno sul loro corpo ferite, cicatrici, escoriazioni. E ci mostrano attraverso queste, ma non solo, anche col loro modo di parlare e di esprimersi, le mille battaglie che hanno dovuto combattere. Dimenticate il divertimento e le canzoncine del film Disney, perché qui non ne trovate. Qui trovate carne, qui trovate sangue, qui trovate lotte e combattimenti, non solo tra buoni e cattivi. Il film è cupo e crudo al punto giusto, e la giungla è il perfetto ambiente in cui tutto questo si svolge. Ovviamente la caratterizzazione dei personaggi, come vi ho già detto, la fa molto anche la loro voce. E a dare la voce a questi personaggi ci sono degli attorini. Kate Blanchett per K, Christian Bale per Baghera, Benedict Cumberbatch per Sher Khan, e lo stesso Serkis per Baloo. Quindi dove la CGI non arriva, arriva l'interpretazione degli attori. E credetemi che fa davvero tantissimo, perché mi sono piaciuti davvero un sacco gli animali. Menzione d'onore per l'elefante. Se ricordo bene, anche nella live action Disney avevano un ruolo abbastanza importante gli elefanti, ma qui quello principale sembra una montagna, è pieno di muschio, fogli e radici, e mi è piaciuta davvero tantissimo questa cosa, perché sembra essere parte della giungla stessa. Ma alla fine Mowgli, metà lupo, metà uomo, cosa sceglie di essere? Sceglie di essere entrambi, e allo stesso tempo nessuno dei due. Pur essendo vissuto tra gli animali e seguendo le leggi della giungla, Mowgli si rende conto di essere più uomo di qualsiasi altro uomo. E scusate se poco. Bene, spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, della mia recensione, ma anche del film, perché sono davvero curiosissimo di sapere cosa ne pensate voi, a me è piaciuto molto. Vi invito a supportarmi lasciando tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video, e ci vediamo molto presto, come sempre, quando meno ve lo aspettate. Ciao!